Buonasera a tutti, buonasera e benvenuti a questo nuovo appuntamento del giovedì sera organizzato sempre da Rete Informatica Lavoro. Benvenuti, benvenuto Umberto, sono Maria Luce Villa, brand manager di Rete Informatica Lavoro e di Performa Group. Vi chiedo se mi sentite cortesemente, se facciamo sempre le nostre solite prove tecniche, se vedete la slide, se mi sentite correttamente. Perfetto. Oggi siamo giunti al terzo e ultimo appuntamento, ultimo webinar dedicato all'argomento Docker. Mi auguro che tanti di voi abbiate visto, ho rivisto le registrazioni di questi webinar sul nostro canale YouTube. A conclusione di questa serie vi ho preparato come sempre una breve survey, quindi verso la fine del webinar ve lo condividerò all'interno della chat, quindi vi invito come sempre a compilarla. Di Docker abbiamo visto tanti aspetti, installazione, container, immagini, volume, file system e questa sera ne vedremo degli altri. Ce lo facciamo ovviamente raccontare dal nostro relatore, Ugo Bettori, che invito sul palco, così ci può raccontare il programma di questa sera. Ciao Maria Luce, buonasera a tutti. Buonasera Ugo, bentornato. Perfetto. Ci puoi dire il programma di questa sera, così ti faccio partire subito con il webinar. Sì, allora oggi completeremo il discorso dedicato al webinar, il principale discorso dell'argomento su cui verte il webinar, cioè su Docker, vedendo alcuni aspetti molto interessanti ancora che completano l'opera e poi, almeno facciamo questa introduzione ovviamente, non stiamo parlando di un corso in cui vediamo tutti i dettagli. E poi daremo anche un'occhiata, faremo una brevissima introduzione anche ad altri concetti riguardanti l'orchestrazione in particolare dei container, non più su un unico computer, su un unico host come nella parte principale del webinar di oggi, ma su più host, quindi su più computer distribuiti su macchine appunto dislocate dove occorre, dove è necessario a seconda della struttura, dell'architettura dell'applicazione, utilizzando, e quindi parleremo di delle modalità con le quali Docker stesso, in quanto architettura ci permette di realizzare questa attività, cioè Docker Swarm, e troveremo anche brevemente un altro strumento esterno, diciamo così, a Docker, che però svolge, consente di ottenere gli stessi risultati, anzi direi risultati più completi, più complessi, sempre nell'ottica di distribuzione su più host di più container, quindi più container su più macchine, che è appunto Kubernetes. Ok, perfetto. Come sempre le regole del webinar le sapete, le domande soltanto nella sezione domande, e Ugo risponderà alle domande solo nella parte finale del webinar. Come sempre vi anticipo il canale di YouTube dove, aspettate, ve lo copio, in chat, dove potrete rivedere il webinar già da domani mattina, insieme al PDF, se ci starà, della presentazione di questa sera, e benissimo, io lascio la parola a te, Ugo, come sempre, buon webinar a tutti. Grazie. Grazie, a dopo. Dunque, come al solito devo condividere. Ok, apriamo la finestrina così non abbiamo il loop infinito, anzi così non va bene, non abbiamo il loop infinito del mio schermo. Ok. Allora, come diceva appunto Maria Luce, anzi come si chiedeva, ma io intanto annuivo, mentre lei si faceva questa domanda, avremo anche oggi delle slide per completare il capitolo, cioè completare la serie. Quindi siamo partiti dall'1 al 2, arriviamo al 3, e volevo fare un breve recap di quanto visto nelle puntate precedenti, a sia, come dire, a vantaggio di chi magari non è stato presente nelle due puntate precedenti, e sia invece a chi era presente, proprio in forma di recap, utile anche a, perché alcuni concetti li utilizzeremo ancora oggi, parlando appunto di Docker Compose. Quindi, rapidamente, vediamo un po' i concetti base, abbiamo visto nella puntata 1, il concetto di containerizzazione, cioè, sostanzialmente, una virtualizzazione, l'utilizzo di macchine virtuali, chiamiamola così, molto molto, come dire, ridotte all'osso, ridotte all'essenziale, che forniscono quindi gli stessi vantaggi della virtualizzazione, cioè la possibilità di avere macchine virtuali che simulano sistemi operativi diversi, o ambienti, meglio ancora, diversi, quindi sistemi operativi più stack tecnologici, non so, un database, un server web, un framework di sviluppo, una tecnologia di sviluppo, Java, PHP, quello che serve, insomma. Quindi il vantaggio della virtualizzazione senza, diciamo così, gli svantaggi tipici dal punto di vista nostro, che adesso poi sottolineerò, senza i svantaggi tipici invece delle macchine virtuali, che sono ovviamente in primis la dimensione, quindi quando io installo una macchina virtuale, installo tutto un sistema operativo con tutti gli annessi e connessi, compresi, per esempio, per fare un esempio stupido, i giochini che, insomma, se il mio intento, e l'intento del container è proprio questo, se il mio intento è avere solo le tecnologie, il software, le tecnologie strettamente necessarie a velocizzare la mia attività di sviluppo e di distribuzione, ecco che avere un sistema operativo completo con annessi e connessi, tra cui appunto i giochini stupidi, non mi serve a nulla e mi appesantisce tutto il lavoro. Quindi ecco il vantaggio dei container rispetto alle macchine virtuali. È ovvio, l'avevo già sottolineato, che se il mio scopo non è quello di avere un container con solo l'essenziale, utile a sviluppare la mia applicazione e a ridistribuirla ovunque in tempi rapidi, e se i miei obiettivi sono altri, tipo avere un sistema operativo completo in cui svolgere le attività comuni che si possono svolgere su una macchina, su un sistema operativo completo, ecco che il container non mi serve a nulla. Ma, ripeto, il container, il concetto di containerizzazione è appunto un concetto che va incontro alle necessità sempre più urgenti, diciamo così, e sempre più comuni di sviluppare, di avere lo stack di tecnologie utili allo sviluppo di applicazioni strettamente necessarie e poterle riprodurre, ridistribuire, replicare molto rapidamente in qualunque altra macchina. Quindi tipicamente si svilupperà in locale, in un proprio container locale, poi quel container con il suo stack di tecnologie e ovviamente i sorgenti, diciamo così, della mia applicazione, che si appoggiano su questo stack di tecnologie, li distribuisco, li replico su un server remoto in 448. Avete visto che poi è molto rapido creare un container e farlo girare. Sugli altri vantaggi, che sono impliciti in quello che abbiamo detto, e poi comunque ci sono sia le registrazioni sia che le slide precedenti. Abbiamo anche sottolineato il fatto che il Docker come ambiente, come tecnologia, è strutturato, composto da quattro elementi fondamentalmente. Il Docker Engine, cioè il motore grazie al quale possiamo creare i nostri container e utilizzare per i nostri scopi, che ovviamente prevede una fase di installazione apposita, che nel caso di, in particolare, sistemi operativi non Linux, quindi tipicamente Windows o Mac, come nel mio caso, può essere realizzato installando, docker desktop. Lo lanciamo così ci prepariamo al passo successivo. E abbiamo il nostro Docker Engine in questo momento. Il Docker Hub abbiamo detto essere invece un repository remoto in cui sono presenti tutte, eccolo qua, in cui sono presenti tutte le immagini utili a costruire i nostri container. E da quanto detto finora, appunto, gli elementi base poi di un sistema containerizzato sono rappresentati da un'immagine, cioè da una serie di file che rappresentano o il sistema operativo, o una tecnologia, il database, piuttosto che il server web, piuttosto che un linguaggio di programmazione, diciamo Java o PHP, e poi il container che appunto, diciamo così, rappresenta un'istanza dell'immagine che tira su, per così dire, rende operativa l'immagine, aggiungendo ovviamente poi quello che è la nostra applicazione. Abbiamo visto le varie modalità con le quali possiamo creare container e la prima parte la possiamo, il recap sulla prima parte la possiamo chiudere qui, vediamo la seconda parte, ciclo di vita, abbiamo visto che ovviamente un container, in quanto cos'è macchina virtuale con dentro un'applicazione che gira, può essere ovviamente avviato, stoppato, restartato, cancellato, quindi per cancellare il container, cancellare eventualmente anche l'immagine, abbiamo visto quali sono i comandi base, principali, utili a questi scopi, anch'essi basi fondamentali. Abbiamo parlato poi di Dockerfile, ecco questo ci tornerà utile anche parlando di Docker Compose. Dockerfile, cosa ci permette di fare? Abbiamo detto, ci permette di creare un file di configurazione, questo è un Dockerfile, impostando una serie di istruzioni, di configurazione, utili a descrivere come deve essere costruita in base a quali immagini, in base a quale tecnologie, in che modo vogliamo avviarla, da dove vogliamo iniziare a utilizzarla, eccetera, eccetera, che appunto rappresenta un primo modo di ingegnerizzare diciamo così, la portabilità di un, di rendere effettiva la portabilità di un container con, dentro la nostra applicazione sempre, ovviamente. Dockerfile quindi, in cui andiamo a definire, abbiamo detto, alcune caratteristiche base necessarie, questo è indispensabile, a from, cioè definisce qual è l'immagine dalla quale vogliamo generare, che venga generato il container. Poi altre opzioni che abbiamo visto, direttore di lavoro, copia, copia, ci permette di copiare sul container o dal container il nostro codice che tipicamente sarà sulla macchina ospite, io per esempio l'ho sempre usato sul desktop, i sorgenti dei nostri esempi, e poi li copiamo appunto nel contenitore, nel container, in modo tale che, insomma, sviluppiamo sulla nostra macchina adesso, host, e poi riversiamo il tutto, rendiamo operativo il tutto all'interno del contenitore preset. Abbiamo visto anche altri comandi di Dockerfile, anche qui non è il caso che rivediamo proprio tutto, volevo solo sottolineare alcuni aspetti relativi al Dockerfile, ecco qui abbiamo visto anche alcuni esempi di Dockerfile, questo è il più semplice di tutto, di tutti quelli che abbiamo visto, voglio creare un container che parta dall'immagine HTTP 2.4, cioè l'ultima versione di Apache, e copi allo stesso tempo dalla mia cartella di lavoro, punto slash, se siamo dentro la cartella di lavoro, quando lanciamo, in cui è presente anche il Dockerfile, voglio che quanto presente nella mia cartella di lavoro sia copiato nella cartella di lavoro, diciamo così, del, in questo caso, del server Apache 2, che in un ambiente lino stificamente è, in questo percorso, user local Apache 2, HTT Docs, cartella di documenti pubblici, diciamo così. E poi abbiamo visto anche, ovviamente, le modalità con le quali avviarlo e poterlo utilizzare, un altro esempio di Docker, altri esempi di comandi, abbiamo parlato anche di volume, che utilizzeremo anche oggi in Docker Compose, che sostanzialmente ci permettono ancora di creare un legame, diciamo così, una sincronia tra il computer host con le sue necessità, con i suoi spazi, diciamo così, con i suoi volumi appunto, e con il suo volume, o volumi, e invece l'hard disk, diciamo così, virtuale, presente nella macchina del container. In modo da appunto creare una modalità di condivisione dei dati, che oltre a essere disponibile tra macchina host e container, è anche, come realizzabile, tra più container tra di essi. Vabbè, qui, su queste cose, rimando sempre alle registrazioni precedenti, le slide anche ci sono, quindi potete approfondire come volete, se volete ovviamente. E sottolineo solo una cosa, visto che la maggior parte di noi, almeno di noi, inteso, chi partecipa al webinar, e dei programmatori, in genere, lavora su macchine Windows, alcuni poi lavoreranno anche su Mac o su Linux, ma la maggior parte lavora su Windows, ci sono alcune differenze rispetto, riguardanti alcuni particolari utilizzi di Docker e dei container in sé, che derivano dal fatto che Docker è nato in ambiente Linux e prospera in ambiente Linux. Quindi, tipicamente, le macchine, i container, vengono gestiti su una macchina Linux, che poi è, come dire, più integrata, appunto, con il container stesso e molte delle cose che abbiamo visto e altre che non abbiamo visto possono essere realizzate indifferentemente con gli stessi comandi, sia su Linux che su altre macchine ospite. Alcune, come per esempio la gestione dei volumi, invece hanno delle lievi differenze, date proprio dal fatto che su Windows e su Mac non siamo nell'ambiente naturale, diciamo così, per parlare semplice, previsto per Docker. E avevamo appunto struzionato la necessità di usare alcuni comandi un po' variati, diciamo così, rispetto a quelli invece previsti per le macchine Linux, per il Docker su macchine Linux, come per esempio questo che ci ha permesso di associare quindi un volume su una macchina, nel mio caso sul mio Mac, sul desktop del mio Mac, su una cartella precisa, con invece una cartella presente sul container di una versione Linux Ubuntu containerizzata, quindi nell'immagine Ubuntu di Linux. e poi avevamo visto anche ulteriori cose, anche qui rintracciabili in qualunque momento, sia come registrazione che come slide. Quindi, Dockerfile, i concetti che ho voluto ricapitolare sono Docker, container, immagini e volumi, sostanzialmente. che adesso li utilizzeremo, li vedremo riutilizzati anche in Docker Compose. A questo punto sorge l'ercita della domanda che diavolo è Docker Compose? Andiamo all'inizio delle slide, parte 3, se è giusto. Docker Compose permette di comporre, diciamo così, se vogliamo tradurlo rapidamente, un set di container. Noi finora abbiamo lavorato sempre su un unico contenitore, con dentro uno o più immagini, con o senza Dockerfile, ma alla fine eravamo confinati, diciamo così, sempre dentro all'interno di un unico container. Compose ci permette appunto di definire un set di container, più container, che possono integrarsi, lavorare in maniera integrata, in modo appunto da creare ambienti di sviluppo più ampi quando necessari. Quando è che questo può essere necessario? Lo vediamo nell'esempio dopo, nell'esempio che vedremo insieme. Il vantaggio di usare quindi il Compose è evidente, ci permette di avere, di orchestrare più, è un primo modo di orchestrare, quello che vedremo soprattutto oggi, è un modo di orchestrare appunto insieme i container, in modo tale che possano lavorare in modalità integrata. Per realizzare una composizione di container è necessario utilizzare un apposito file di configurazione di nuovo, diverso ovviamente da Dockerfile, che è in formato YAML, formato particolare, diciamo così, molto sintetico dal punto di vista della quantità di codice che occorre scrivere, basato sulle indentazioni, diciamo così, ma questo è secondario. Ogni container all'interno di un Compose o di set, che si voglia, viene definito dalla nomenclatura ufficiale un service, un servizio. Vedremo poi in che modo questo si realizza concretamente. Dopodiché, una volta, un po' come una volta definito un Dockerfile, le caratteristiche del singolo container con tutto il suo stack di tecnologie e quant'altro abbiamo visto, possiamo lanciare questo, possiamo lanciare il nostro container partendo appunto da questo file di configurazione in maniera analoga dal punto di vista operativo, intendo. Ecco che è sufficiente un unico comando per, a partire da questo file di configurazione in formato YAML, avviare il set di container. I step operativi sono ovviamente definire l'ambiente dell'applicazione con un Dockerfile o con le immagini, poi vedremo la sottile differenza, definire i servizi, cioè quali sono i container, abbiamo detto, ogni container rappresentato viene nominato come servizio in questo contesto, e definire i servizi che compongono appunto l'applicazione in questo file di configurazione, cioè docker-compose.yml. Dopodiché, con un solo comando, eccoci qua, docker-compose-app, avviare l'intero set, l'intera composizione che lancia la nostra applicazione. Quali sono gli elementi di questa composizione? Ovviamente i servizi, vedete, rappresentano i singoli container all'interno del group, del set. Altro concetto importante, il network, in parte ne abbiamo già parlato, ma ne riparliamo brevemente, sostanzialmente ci permettono di creare una rete di comunicazione appunto tra i vari contenitori, tra i vari service, così come i volume ci permettono di creare volumi condivisi tra i diversi container. invece che stiamo replicando concetti di cui abbiamo visto uno per uno, li stiamo componendo appunto insieme in un'applicazione multi-container, diciamo così. Altre opzioni, altri elementi di composa sono un po' più, come dire, tecnici e noi li citiamo brevemente, è possibile definire ulteriori opzioni di configurazione per i servizi e è possibile anche definire dei dati che devono essere secretati, diciamo così, o che sono suscettibili di politica di sicurezza che possono variare ovviamente da applicazione a applicazione e da policy aziendali a policy aziendali. Una volta che avremo il nostro definito il nostro Docker Compose YAML ecco che andremo a definire i servizi eventuali volumi condivisi eventuali tipicamente c'è almeno uno se no la composizione non funziona e tra l'altro c'è un almeno uno che viene realizzato di default da composo stesso proprio perché è strettamente necessario per far dialogare più container del gruppo. Altre caratteristiche altri aspetti sezioni importanti del Docker del file di configurazione composo sono la sezione environment in cui possiamo definire alcune variabili di ambiente dei vari container e la proprietà depends on che appunto ci permette di creare dipendenze tra un container e l'altro come vedremo che so se la mia applicazione è un servizio HTTP dipende da un servizio SQL per creare questa catena minima di due container che vogliono dialogare vogliono collaborare per realizzare la mia applicazione ecco che andrò a dire quale servizio quale container dipende da quale altro servizio o da quale altro container ecco un esempio base di Docker Compose in cui ho messo in evidenza gli elementi principali citati prima intanto la versione con l'indicare la versione di Compose di lato abbiamo i commenti allineati diciamo così poi diciamo così un array o una serie di service di servizi e vedete con l'indentazione tipica del linguaggio di Hamlet andiamo a definire indentandole opportunamente i due servizi di questo esempio con un nome arbitrario nome servizio 1 due punti in questo caso il nostro servizio il nostro container 1 verrà compilato buildato a partire da un Docker file e qui andiamo a mettere e andremo a mettere come vedremo il percorso in cui trovare il Docker file di questo container 1 o di questo service 1 secondo servizio allineato al primo secondo le specifiche di Hamlet altrimenti vi da errore in un editor che capisce che comprende gli Hamlet insomma il secondo servizio invece non parte da un Docker file ma parte direttamente da un'immagine due sono le alternative poi sostanzialmente o abbiamo un Docker file che costruisce l'immagine costruisce il container a partire da un'immagine from abbiamo visto poco fa oppure partiamo direttamente con l'immagine senza creare un Docker file e questo è ovviamente il secondo tipo di opzione qui il nome dell'immagine PHP HTTP MySQL come abbiamo visto già negli esempi dedicati al singolo container volendo possiamo anche dargli un nome abbiamo visto anche questo è utile per poter accedere in applicazione in multicontainer soprattutto avere un nome scelto da noi che ci permetta di muoverci all'interno dell'insieme dei container poi appunto la definizione di eventuali volumi condivisi di nuovo con le sintassi che abbiamo già visto sorgente copia di destinazione ovviamente sono tutti part è evidente e poi network appunto ci permette di definire dare un nome al network o a più networks sono tutti plurali volumes networks services e poi sempre tramite successive indentazioni andiamo a definire uno o più vedete che questo è un array con un unico elemento ma disponibile ad accettarne altri insomma ha detto poi il comando principale quello che una volta definito il file di configurazione ci permette di avviare la composizione il gruppo di container è appunto docker compose app crea i containers e via via altre opzioni sono simili a quelle di cui abbiamo già parlato l'avvio in modalità detached cioè solo in background se il nostro è un'applicazione che svolge solo dei servizi appunto in background con i quali non è necessario interagire con bash piuttosto che con prompt eccetera o addirittura con interfaccia grafica quando prevista e poi altre opzioni start per avviare i servizi docker già creati dal compose app e poi stoppati stesse logiche che abbiamo visto sul singolo container stop appunto elenco dei container presenti nella collezione cioè così nella composizione docker l'abbiamo visto anche nel singolo a livello di docker desktop e poi run per eseguire comandi una tantum per esempio magari voglio in questo caso voglio avere l'elenco delle variabili di ambiente del mio servizio web ma questo ovviamente sono funzionalità che poi vanno approfonditi comandi che vanno approfonditi provati eccetera ci fermiamo qui con le slide e vediamo un po' perché le successive parlano appunto di altri orchestratori di container ma noi ci concentriamo su compose che è il più semplice il più immediato da utilizzare e anche il più immediato da testare insieme nel contesto di un webinar perché gli altri gli altri strumenti di orchestrazione kubernetes e talker swarm prevedono l'uso di più computer quindi avremo su più computer il mio un altro su un server remoto da qualche altra parte la necessità di orchestrare appunto container distribuiti su più mic cosa che non possiamo fare ovviamente nel webinar ma già con compose possiamo fare tantissimo andiamo a vederci un po' i miei esempi allora intanto docker docker lo ha avviato vediamo come siamo messi qui siamo messi bene non c'è nulla rimasto appeso qui è quello che abbiamo già visto le volte scorse qui adesso aggiungeremo nuove cose i volumi non ce n'è ce n'è uno che però noi non abbiamo mai preso in considerazione che mi serve ad altri scopi non legati al webinar dunque partiamo da qui allora io ho preparato due esempi abbastanza interessanti pur nella loro semplicità il primo è questo mycompose wp cioè un esempio di composizione di container molto utilizzato cioè che può essere molto utile nel senso che spesso è necessario poter creare dover creare un'applicazione basata su wordpress da qui wp per cominciare a elaborare il nostro progettino o progettone il nostro tipicamente che sono oramai wordpress mi ha usato moltissimo almeno per quello che mi riguarda per le richieste che mi arrivano nell'ambito dell'e-commerce vediamo appunto come con un semplice filetto questo possiamo andare a costruire uno stack tecnologico utile a 10 secondi o poco più avere il nostro wordpress pronto all'utilizzo uso visual studio code così leggiamo il codice in maniera un po' più più comprensibile andiamo su mycompose wordpress apri c'è un solo file ingrandisco un po' così lo vediamo e qui vedete c'è il nostro docker compose yaml e abbiamo gli stessi elementi base visti nelle slide poco fa cioè il primo versione di compose l'ultima la 3.8 sottolineo anche nel commento mentre questo è il modo di commentare di yaml cancelletto non c'è il multiriga purtroppo nel linguaggio di yaml questo è importante voglio assurdiare che la versione 3.8 di compose deve essere compatibile con la versione docker che stiamo utilizzando e lì ovviamente ci sono delle tabelle comparative nella documentazione ufficiale che ci permettono di proseguire correttamente dopodiché abbiamo ecco il nostro stack di tecnologie anzi la serie di container che in ambito docker compose vengono definiti service questo quindi definisce una serie di service noi ne abbiamo due il primo service al quale diamo un nome tipicamente mydb conterrà il nostro servizio il nostro container basato su un database il più comune mysql il nome dell'alias arbitrale quindi possiamo chiamarlo mydb my database eccetera eccetera qui abbiamo questa l'indicazione di una versione di linux che però è opzionale nel senso che nel mio caso non è opzionale perché è appunto un'opzione utile per aggiungere compatibilità con questa versione di linux e con questa versione di mysql in particolare che al momento non è già disponibile per i mac con il chip nuovo apple m1 e tantomeno con i m1 max eccetera e quelli che verranno quindi questo è opzionale solo per compatibilità con gli apple più recenti dopodiché il resto invece non è opzionale diciamo così non dipende dal computer ma abbiamo appunto l'altra voce che abbiamo visto nel slide quale immagine da quale immagine costruire il container del database con nome mydb e anche qui andiamo a indicare il nome dell'immagine mysql ho usato o ancora lì una versione 5.7 anche se siamo un po' più avanti non è che cambi molto e quindi questo è il nome dell'immagine poi abbiamo detto un altro elemento importante comune all'interno di Compose è quali volumi vogliamo eventualmente utilizzare in questo caso vogliamo che i dati del volume vengano salvati nella libreria la cartella di mysql nel container anche qui queste opzioni poi vanno valutate e contestualizzate con il tipo di container sulla macchina con il tipo di sistema operativo linus che containerizziamo eccetera eccetera va beh il restart è un'opzione così non è che sia fondamentale anche se utile ci sono sostanzialmente abbiamo due opzioni restart always cioè ogni volta che il container eventualmente si dovesse interrompere deve riavviarsi in automatico oppure unless stop riavviare a meno che non sia stato stoppato con l'apposito comando stop qui abbiamo detto altri elementi gli elementi variabili di ambiente environment qui ha senso per esempio in questo caso impostare le variabili relative al container dell'immagine MySQL anzi nel mio caso sì scusate me l'ho distratto un attimo qui andiamo a definire quali sono la password radice solite impostazioni di un database la password dell'amministratore il nome del database lascio wordpress il nome dell'utente per comodità e per non dimenticarmi voci che in questo momento ci farebbero perdere tempo uso sempre la stessa parola wordpress per tutto ovviamente non è il massimo della sicurezza ma non è questo un problema in questa occasione e questa è la definizione del primo servizio quello del database vedete tutto bello indentato se sbaglio indentazione errors questo è YAML secondo servizio allineato al primo nome my wordpress ecco qui un'altra delle voci che abbiamo visto prima nelle slide depends on e questo vuol dire qui ovviamente sto descrivendo un container un servizio cioè un container dedicato a wordpress che si basa su un database mysql tipicamente oltre che su php ecco che quindi il mio container il mio servizio wordpress dipende da un altro servizio da un altro container e qui metto il nome del container da quale dipende mydb lui quindi sto definendo anche una dipendenza appunto dopodiché stesse cose di prima in parte qual è l'immagine che voglio utilizzare voglio utilizzare l'immagine wordpress presente nel docker hub voglio dei volumi voglio salvare i dati di wordpress nella cartella var www.html e lì verrà installato appunto la cartella di wordpress con tutti i suoi php eccetera eccetera di nuovo come abbiamo già visto nei singoli container negli esempi dei singoli container mappo la porta 80 del container con la porta 8000 del mio mappo le porte http tipiche porte http del container con la macchina ospite in modo tale da poter vedere sulla macchina ospite sul nostro mac in questo caso il risultato di wordpress che viene tirato su anche qui l'opzione restart con la sua versione più comunemente utilizzata e di nuovo una serie di vari ambienti in questo caso nome del database wordpress di nuovo nome dell'utente in questo caso non più cosa ho messo qui sempre wordpress va bene fatto bene utente di wordpress password di wordpress nome di wordpress eccetera eccetera infine l'ultima sezione è quella dei volumi in cui andiamo a definire mediante il nome che abbiamo assegnato precedentemente nelle singoli service quali sono i volumi che fanno parte da comporre diciamo così e quindi noi ne abbiamo due quello a cui abbiamo dato il nome mydbdata il volume gestito nel container o nel service che vi si voglia mysql e quello invece che viene definito nel container o service di wordpress eccoli qua mywordpressdata è il nome la posizione è questa l'altro si chiama mydbdata che si trova in questa posizione del container ok questo è appunto abbastanza poche righe di codice lanciamolo e vediamo che cosa succede andiamo a aprirci il nostro ok ci spostiamo nella radice del progetto dove c'è appunto il nostro compose yaml docker compose yaml e poi qui andiamo a usare quel comando come dire che è magico che risolve tutto che abbiamo indicato più volte docker compose app l'abbiamo anche visto qui lo sottolineo perché così se volete provare no non l'ho messo se volete provare insomma anche voi a utilizzare eccolo qua e vediamo che cosa ne viene fuori intanto voglio mettere a paragoccia voglio confronto mentre lui esegue il suo lavoro vogliamo anche vedere che cosa succede così per chiarezza maggiore che cosa succede dentro docker apps desktop ok questo purtroppo non lo posso ingrandire ma tanto al momento ci sono tre container ok spero che sia visibile che altre volte mi avete detto che si vedeva poco ecco che sta leggendo lo YAML il compose YAML e comincia a scaricare le immagini prima quella di database poi quella di wordpress intanto che lui elabora faccio uscire il gatto che rompe un attimo scusatemi ok vediamo che cosa è successo nel frattempo adesso vedete ha completato MySQL Community Server vedete che qui mi ha creato appunto il mio container composto si è aggiunto i tre che avevamo già precedentemente è già eseguito vedete che mentre gli altri e vedete che cambia l'icona questi sono singoli container singoli box questo è un multile è un container più container su diversi livelli e in più è verde cioè è già in esecuzione fronte immagini mi ha aggiunto le immagini necessarie MySQL appunto il primo service e Wordpress il secondo service che abbiamo definito all'interno di compose YAM proviamo a vedere cosa succede se andiamo a navigare su localhost 8000 è il mapping che abbiamo definito no localhost 8000 non gli piace perché non gli piace? intanto non dovrebbe neanche essere questo localhost e basta localhost forse è rimasto qualcosa nella cache facciamo così ok grazie Ottimo, grazie. Nel frattempo che attendiamo Ugo, se avete domande mi raccomando scrivetene nella sezione, così nel frattempo, aspettiamo un po' se Ugo si attarda, vi posso anticipare la nostra survey nel frattempo, così se volete consigliarci eventuali altri nuovi argomenti, quindi se volete consigliarci magari qualche nuova attività di rete informatica lavoro nel nostro portale, noi vi abbiamo creato questo form per capire un po' le vostre e le vostre modalità. Nel frattempo torna Ugo, ottimo Ugo, grazie. Dov'è che mi avete perso? Dove ci siamo persi. Quanti secondi, minuti? No, 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 pochissimo, pochissimo. Allora, vediamo un po'. Era già condivisa. E le mie impostazioni localhost e non riuscivi… Ah, meno male, quindi Google, sì. Ho bypassato quel problema, ma avevate visto che ho scaricato, ho svuotato la cache? Sì, eravamo arrivati lì, poi non abbiamo più visto nulla. Ottimo, allora vediamo adesso. Ok, eravamo arrivati qui, spero. Cioè, avevamo scelto la lingua italiana nella classica pagina di installazione WordPress, appunto. Maria Luce mi confermi che questo l'avete visto? Eravamo proprio in Google, tu stavi selezionando localhost, quindi dovrebbe essere questo, perfetto. Avevamo detto che abbiamo mappato la porta localhost 8000 con il nostro container e lui mi rimanda alla pagina di WordPress, tipica pagina di WordPress di installazione. Abbiamo scelto la lingua italiana, per ovvi motivi, e poi stavo, appunto, decidendo brevemente qual è il titolo del sito, nome utente, admin, e assuolo ovviamente metto WP per competenza, confermo, la sua burocrazia wordpressiana, iochiocereio.it, e scoraggiamo i motori che tanto non ci prendono certo in considerazione in questa occasione. Bene, installa WordPress. Fatto. Login, WP, andiamo a vedere, quindi admin, computer, e WP come password. Ok. Siamo su WordPress, all'interno di un container. Ci abbiamo messo, a parte il problema della cache, dieci minuti. Vabbè, poi a creare il composer, ce ne vanno un po', il compose file, il YAML, ci va un po' di tempo, però, dopodiché, quel file lì lo portiamo dove ci pare, lo distribuiamo sul server, lanciamo Docker Composate, e tira su tutto, e poi procediamo. In questo caso, quindi, siamo sulla nostra versione, una vergine, diciamo così, di WordPress, facciamo fuori queste schifezze che non servono a nulla. Chi usa WordPress lo sa. Bene, è completamente operativo. Aggiungiamo un nuovo plugin, tipicamente, se si sveglia, useremo WooCommerce, che è un po' utilizzato a ragione di vita, diciamo così, attualmente, che tiene in vita soprattutto WordPress. Installiamo WooCommerce. Insomma, come se fossimo su Lost, su una macchina locale. Su una macchina reale, non virtualizzata, non containerizzata. Ci mette un po' troppo, per i miei gusti. Ok, attiviamolo. Ho detto attiva. Sì, sta girando. Intanto, vedete che sotto continua a... qui lo saltiamo, non abbiamo un certo tempo di salta e dettagli, se non ti preoccupare. Ecco fatto. Questo non ci interessa. Sappiamo già come si crea un prodotto. Ne facciamo uno al volo, giusto per vedere che tutto funziona tranquillamente, come sempre. Andiamo nella sezione prodotti WooCommerce. Ci creiamo un nuovo prodotto. P1, titolo, descrizione. Signora, prodotto semplice, vediamo 20 euro, 22, prezioni estino, 20, contatto del quasi 10, o circa 10%. Va bene, non aggiungiamo immagine, altra roba. Salviamo, pubblichiamo il nostro prodotto. Andiamo a vedere il nostro sito, base, shop. Andiamo allo shop, vediamo se c'è il nostro prodotto 1. Eccolo qui, scontato da 20 euro. Aggiungiamo al carrello, andiamo al carrello, più 1, 20 euro, aggiungi ne 2, aggiorna con il carrello, vai al pagamento, eccetera, eccetera. Mi fermo, non è un webinar su WordPress. Quindi, fantastico. Con poca fatica, soprattutto pensando che la fatica, diciamo così, eventualmente iniziale da dedicare alla definizione del file di configurazione Compose, una volta risolta quella, che poi mi ha portato via una manciata di minuti, una volta risolta quella, poi quel file, Compose, lo portiamo in giro ovunque dove ci pare, lo diamo ai colleghi, lo mettiamo su un server remoto, lanciamo a Compose app e via, risolto. Ok, vediamo che sono le 19-18, va bene, vediamo un altro esempio rapidamente, che tra l'altro l'ho dovuto tirare su per conto mio, non tanto a scopo webinar, ma perché, intanto blocchiamo questo, chiudiamola brutalmente, così non perdiamo tempo, diciamo perché, appunto, tra le varie problematiche, diciamo così, di, faccio un po' di pulizia, tra le varie, così è più chiaro poi cosa stiamo aggiungendo e cosa no, nella prossima esempio, tra le varie, ok, c'è niente altro che ci interessa, no, i volumi li possiamo far fuori, ecco di qua, vedete, i nostri volumi del database di WordPress, a dire, per oggi. Dicevo, tra le varie problematiche della chip M1 della Apple, c'è il fatto che non è, anche nei nuovi sistemi operativi, cioè in, dove sono adesso oggi, scusate, su Monterey, non è più presente l'installazione tipica di, l'installazione di default di PHP, quindi per realizzare progetti PHP, che sono un'altra fonte, diciamo così, di guadagno, in genere, ecco che avevo due opzioni, disinstallare l'Apaci installato di default in Monterey e poi installare una versione che tra l'altro è, come dire, configurata in modo tale e danno accettare PHP, perché secondo, e non solo secondo Apple, è un linguaggio, diciamo, non troppo sicuro, ma in alcuni casi, insomma, si utilizza correntemente, non è certo quello il punto. E quindi le opzioni erano, disinstallo la versione Apache maneggiata da Apple, mi installo una versione Apache ex novo, ufficiale, appunto, della fondazione Apache, e poi mi installo PHP, eccetera, eccetera, e da lì in poi posso progettare, produrre il mio prodotto. Oppure tiro su una macchina virtuale, ma devo fare lo stesso lavoro, grossomodo, che ci metto un'oretta, oppure io faccio un bel compose, o uso comunque la tecnologia Docker, e in questo caso mi faccio un compose. Andiamo a vederci l'altro compose, l'altro esempio di compose che utilizzo concretamente rispetto a quello di WordPress, che è più didattico, diciamo così. Apriamo quindi il nostro progettino file, apri cartella, andiamo su My Laravel, tra l'altro poi nel mio progettino PHP ho bisogno di usare Laravel, ed ecco che ho trovato la soluzione a tutti i miei problemi derivanti dall'M1. Ok, allora, intanto, io qua ho anche messo una cartellina con dei test dedicati a PHP, connessione database e una select sul database. Perché? Perché, per farmi i test ovviamente, e perché poi inevitabilmente la mia, il mio stack, il mio insieme, la mia composizione di container prevede che cosa? Tre, ne ho messi tre in questo caso, tre service. Uno, una versione T particolare di PHP integrata già con Apache, che si chiama appunto PHP Apache. Scusate, che si chiama versione trattino Apache. Quindi è una versione di Apache già integrata in Apache. Un lavoro in meno, tra l'altro. Qui le stesse cose concettualmente che abbiamo visto poco fa. Il nome del service, eventualmente il nome del container, se è necessario entrare dentro PHP, e nel mio caso è stato necessario per installare Laravel, il quale dipende da composer, per chi lo conosce, quindi ho dovuto dare un nome al container, mi è servito dare un nome al container, per poter poi entrare in questo container, in questo service, e usare la liga di comando per installare composer, dal quale poi posso generare progetti Laravel. qui di nuovo gli vado a dire qual è il file docker da utilizzare, questo qui, per creare questo service, questo container. L'opzione che abbiamo già visto prima, abbinamento, database, dipendenza dal database, quale questo, sempre base al nome. di nuovo dove salvare in apace i miei progetti, la mia cartella di lavoro, e il nome di un network. Secondo service, di nuovo quello del database, stesso problema di prima, compatibilità con M1, ma per il resto image, stavolta MySQL, il nome del contenitore, le solite cose, se voglio accedere con un bash interattivo, vero, potrebbe servirmi ad entrare nel database, nella scelta di MySQL, per creare appunto, con sintassi SQL dei database, delle cartelle, delle tabelle, eccetera. Mapping di porte, la classica 3306 di MySQL, di nuovo variabili d'ambiente, nome del database, visto che il mio progetto, vuole utilizzare MySQL, vuole creare, è dedicato a creare un stack di tecnologie, dedicate all'Araval, io ho dato un nome banalmente, la password, database, volumi, network, qui abbiamo la terza immagine, phpMyAdmin, che ci serve per scrivere in database, gestire il database MySQL, e quindi un altro container, con immagine phpMyAdmin, porta abbinata, solite opzioni, che abbiamo già visto, che si ripetono in parte, lista dei network, lista dei volumi. Ok, tiriamo su anche questo, e vediamo che cosa succede. stiamo nella cartella del progetto, vediamo che ci sia già composato, eccolo qui, ho stoppato tutto, qui sì, non c'è più nulla di, non ci sono scorie, di quanto ho fatto precedentemente, immagini, non ci sono quelle che ci servono adesso, verranno installate, e i volumi, ce n'è quello che a noi non interessa. E ora ovviamente, fa le stesse cose, con oggetti diversi, con immagini diverse, che ho fatto poco fa. 100 MB, 107 anzi. Adesso sta lavorando con PHP Apache, e ci siamo. Modalità dettaccia. Ora, che mapping abbiamo fatto noi? Abbiamo avuto, abbiamo creato una serie di mapping, il primo è, con Apache, porta 8000. Questo non ci interessa, e invece PHP, e mi è sulla porta 880. Andiamo intanto sulla porta 8000. Ecco qui, nella porta 8000, 8000, scusate, c'è un mio file index, così, con, giusto dire, per confermare che tutto funziona, non è questo lo scopo. Più interessante, per esempio, vedere il classico info.php, che abbiamo già visto, anche quando non abbiamo usato Docker Compose, che si trova, alla stessa indirizzo, ma ovviamente, slash info.php, e la informazione sulla migliorazione di PHP. Poi, sempre alla porta 8000, quella abbinata a PHP e Apache, abbiamo questi esempi qui, di connessione a un database. prima di connetterci al database, dobbiamo, insomma, popolare un database, e la connessione va al database, ma è l'Aravel, questo è il puro PHP semplice, quindi, l'Aravel l'abbiamo mappato sulla porta, tanto, scusate, PHP Admin l'abbiamo mappato sulla porta 8080, quindi, ci apriamo un'altra finestrina, ed eccoci PHP, abbiamo detto che il database si chiama, no, l'utente si chiama root, e la password 0, mi sembra 0, MySQL 1, ma in genere, per i testi uso questo, ed eccoci qua, qui c'è già il database MyLauravel, vuoto, creiamoci una tabella, mi sono preparato il lavoro, quindi, uso SQL, facciamo prima che, farci la mano al momento, quindi, apri la finestrina di SQL, e mi creo il mio, la mia tabellina, MyTable, eseguo, eccetera, eccetera, ecco la mia tabellina MySQL, poi, altra porzione di SQL, mi inserisco i classici, i nostri tre amici, quindi, altra finestra SQL, e qua, crediamo, popoliamo la tabella MyTable, la tabella è popolata, adesso possiamo fare i nostri esperimenti, con, le nostre verifiche, con SelectPHP, questo è un fatto di connessione, quindi, siamo sulla porta 8000, dobbiamo andare, dentro la cartella MyTestPHP, ovviamente, Select, c'è un ID troppo, SelectPHP, ed ecco lì qua, tutto a posto, e questo appunto, come verifica mia, che mi ero fatto, insieme ad altri, io qui ho scremato, diciamo, essenziale, ora vediamo, come usare, l'Arabel, se andiamo a vederci, il Dockerfile, dedicato, all'immagine apace, noi qui abbiamo, creato, tre container, uno apace, più PHP, con riferimento, al file, di configurazione, dockerfile, gli altri due, invece, li abbiamo usati, direttamente, con immagine, non avevo bisogno, di configurarla, in particolar modo, dockerfile, cosa abbiamo fatto qui, per usare composer, grazie al quale, poi poter creare, progetti l'Arabel, mi sono dovuto installare, tutta una serie, di librerie PHP, e con il comando, sempre da from, l'immagine, che stiamo usando, che abbiamo indicato, anche nel compose, mi vado a usare, il comando run, più volte, per mio ordine mentale, lo sono diviso, in tre sezioni, ognuno dei quali, installa, una serie, di estensione PHP, queste, quelle base, questo MySQL, e questo, questo è un aggiornamento, in più, mi sono installato, anche composer, con il comando classico, che si trova, nella documentazione ufficiale, curl, eccetera, eccetera, facciamolo, no, facciamo, questo è già fatto, quindi composer, già installato, vediamo come creare, quindi abbiamo tutto il necessario, per creare un progetto, composer, ora, devo entrare, nella, nel container, nel service, PHP Apache, e uso questo comando, tra i vari, tra le varie opzioni, questo è il più rapido, quindi, mi apro un'altra finestra, e voglio eseguire PHP Apache, appunto, il mio, la mia immagine PHP, il mio servizio PHP Apache, voglio accedere, al bash, al prompt, sono già nella cartella, HTML, se faccio una lista, vedete, ho esattamente, gli stessi file, che ho qui, il Docker file, index.html, info.php, e la cartella, mytest.php, voglio installare, anzi, scusate, voglio creare un progetto Laravel, con composer, e con il comando classico, create project, nome del progetto, vado a creare un progetto, Laravel, dentro l'HTML, dentro la cartella HTML, eccolo lì, cioè, eccolo lì, nel senso che, ha già creato la cartella, poi scaricherà, tutte le dipendenze, di, l'Araver, di questo framework, PHP. voilà, ci siamo, quasi, dove, mentre aspettiamo, intanto, vedete già, c'è la cartella, my Laravel, il progetto che abbiamo scelto, il nome che abbiamo scelto, per il progetto, e dentro ci sono già tutte, tutto lo scaffold, tipico, di un'applicazione, Laravel, di partenza, ovviamente, chi lo usa, avrà già notato, insomma, che c'è tutto quello che ci sono, di solito, configurazione, la cartella public, le rotte, eccetera, eccetera. Vediamo se ha completato l'opera, se ha completato l'opera, a questo punto, possiamo andare sul nostro, sul nostro browser, andare stavolta, non in my test, ma in my Laravel, entrare nella cartella public, e vedere, se la pagina, ufficiale, di tutti i progetti Laravel, è presente o meno. Eccola qua. E da qui in poi, ovviamente, è un'altra storia, è una storia Laravel. Ok, quindi, anche in questo caso, avete visto, insomma, l'hiamo fatto veramente in fretta, soprattutto è riproducibile in fretta, che farlo, ovviamente, porta via un po' di tempo, termina tutto, non abbiamo tempo da perdere, non da qui però, non voglio uscire da qui, voglio uscire da qui, e voglio uscire da qui, poi me lo metto a posto io. Qui sta l'ora. Ok, quindi vedete, che anche qui, insomma, si fa in fretta anche a creare uno stack, di tecnologie un po' più avanzato, di un banalotto WordPress, dal quale partire per sviluppare i nostri progetti, con tecnologie che ci interessano. Completo, rapidamente, la panoramica sugli altri strumenti di orchestrazione, di container, uno è, fa capo, diciamo così, interno a Docker, si chiama Docker Swarm, shame, sostanzialmente, come abbiamo detto, abbiamo anticipato, consente di orchestrare più container su macchine diverse, in uno shame appunto di macchine. il funzionamento, dal punto di vista concettuale, è simile a quello di Kubernetes, cambiano i concetti, Kubernetes però è molto più, molto più enterprise, dedicato a applicazioni, a composizioni, a orchestrazioni veramente complesse, con molte più opzioni di configurazione, quindi, è più complesso da imparare e da utilizzare, rispetto a Docker Swarm. Ma, l'obiettivo, sostanzialmente, è lo stesso. e anche i concetti sottostanti, quindi, in uno shame, il cosiddetto shame di Docker, Swarm, avremo, almeno, una serie di nodi, una serie di macchine, di host, con il loro container, il loro container, e poi, tra tutti questi nodi, ce ne sarà almeno uno, che, detto, nodo, o shame, o shame di nodi, detto anche cluster, in Swarm, viene detto shame, per esempio, in Kubernetes, come vedremo, è detto invece cluster, ma, un gruppo, insomma, un grappolo, grappole, shame, più o meno, sono uguali, concettualmente, quindi, all'interno di uno shame, su Orm, avremo, una serie di nodi, detti nodi di lavoro, in maniera analoga, a quello che è il concetto, utilizzato in Kubernetes, e, invece, un nodo, come dire, amministratore, un nodo gestore, che ha il compito, di appunto, di sincronizzare, i vari nodi di lavoro, quelli che, che, sbrigano, le attività, più pratiche, mentre lui, appunto, è l'orchestratore, diciamo, il dirigente. E qui ho messo giù, una serie di concetti, sottolineate, quali sono i tipi di nodi, abbiamo il nodo manager, appunto, anzi, scusate, il nodo leader, che, appunto, è il nodo che gestisce, le attività, l'orchestra, le attività dello shame, una caratteristica, ovviamente, importante, è data dal fatto, che se uno nodo leader, cade, è possibile, automaticamente, previa configurazione, far salire di ruolo, diciamo così, eleggere un nuovo leader, diciamo così, in modo tale che, il sistema, sia sempre, abbia sempre qualcuno che lo gestisca. Gli altri nodi sono, soprattutto, nodi di lavoro, e nodi manager, che sono una via di mezzo tra leader e nodi di lavoro, che sono quelli che, effettivamente, eseguono, fanno girare, PHP, Apache, fanno girare, un altro container, che invece, che so, fa girare, un altro tipo, di stack, di tecnologie. I vantaggi, di Docker, suono, sono simili, a quelli di, di Kubernetes, proprio perché, forniscono, sistemi di configurazione, automatizzata, grazie al quale, se qualcosa va storto, posso, eleggere, un nuovo nodo leader, se, se devo aumentare, la quantità di nodi, per gestire il servizio, per scalare, la mia applicazione, dico al nodo leader, di creare più nodi worker, nodi di lavoro, o di ridurre, quando, lo senso, ho un modo appunto, di bilanciare, costantemente, tutte le attività, di tutti noi. Kubernetes, diciamo, farà più o meno, la stessa cosa, anzi, concettualmente, farà lo stesso, ma a un livello, direi, un po' più alto, più complesso, per applicazioni, multi container, multi hosting, anche, come swarm, ma a un livello, diciamo, molto più, più complesso, e, configurabile. Anche in questo caso, abbiamo, una serie di nodi, chiamati, macchine worker, nodi, che eseguono le applicazioni, invece, di shame, qui si usa il termine cluster, come avevamo già anticipato prima, e abbiamo un piano di controllo, che, rappresenta, appunto, il nodo master, chiamiamolo così, il nodo amministratore, e, ecco, qui di nuovo, sono entrato in qualche dettaglio, in più, il master e i minions, il nodo orchestratore, e i nodi di lavoro. Qui, ho preso la documentazione ufficiale, un'immagine che, dà un'idea, appunto, di come la cosa è gestita, anche visivamente. Questo è il nostro piano di controllo, che può essere composto da più nodi leader, nodi manager, ma che sostanzialmente gestiscono più, vedete, nodi Kubernetes, a loro volta, poi, sottorganizzati in vari layer, che non è il caso, noi abbiamo il tempo di approfondire. Casi d'uso, ho messo giù anche una, in parte ne abbiamo già parlato, casi, di perché utilizzare Kubernetes, per distribuire, per esempio, i più comuni casi, sono distribuire un'applicazione, che comprenda più servizi, distribuiti su nodi, su host diversi, su macchine diverse, avere una gestione costante, dei servizi forniti, dai container, in modo che tutti, possano lavorare insieme, configurare, l'abbiamo già detto, il sistema, per replicare, nel caso, applicare i nodi, nel caso che uno di essi, o alcuni di essi, vadano in, in shutdown, gestire, orchestrare tutti i nodi, che girano su sistemi, su diversi host, e appunto, duplicare, il container, in maniera rapida, garantendo, la continuità del servizio. Un po' di nomi famosi, Spotify, Netflix, Adidas, utilizzano, pesantemente, Kubernetes, e ci mancherebbe, visto che, stiamo parlando di realtà, enormi, e quindi, di applicazioni enormi, e questo lascio, che, non è il caso, che lo legga io, sono due o tre informazioni, che danno il senso, diciamo così, dell'utilizzo, attualmente, che si fa di Kubernetes. Chiuso. Ok, questo è quanto, vediamo un po', se ci sono domande. Eccoci. Sì, ci sono un paio di domande, puoi andare nella sezione, cioè Luigi. Allora, smetto di condividere, così. Ok. Ok, grazie. Dunque, partiamo dal basso. Luigi, qual è il progetto, il progetto, che bisogna realizzare? Beh, io, voi sapete, che i programmatori, dovevo già anticipare, i programmatori raramente utilizzano Docker, in genere, in un team, ci sarà una figura deputata, che tipicamente ha delle competenze del sistemista, che si occupa di questi aspetti, che come vedete, hanno a che fare proprio con la struttura di un sistema operativo, e con la costruzione di uno stack di tecnologie. Io ho lavorato su alcuni progetti Docker, ma in ambito mio personale, cioè, per esempio, questo, che vi dicevo, per crearmi lo stack di tecnologie utile a utilizzare, poter realizzare un progetto Laravel in un ambiente che mi dava alternative più complesse dal mio punto di vista, e quindi il livello di complessità è leggermente più alto di quello che abbiamo visto, quindi con 5-6 servizi. Però, avete visto, sostanzialmente la logica è abbastanza semplice, quindi, partire da una composizione di 3-4 servizi o 5-6 e andare su una, scalarla con una di più servizi, che poi è abbastanza raro se non si è in applicazioni enormemente enterprise, e a quel punto si entra tipicamente o in suolo o in docker, scusate, o in kubernetes, diciamo che da lì in poi è solo un aspetto quantitativo. Avete visto che siamo partiti da un esempio di Compose con due service, ne abbiamo fatto un altro di tre, abbiamo visto anche come puoi entrare in uno dei container per usare Compose, per installare Compose e usarlo per creare un'applicazione, uno scherzo di applicazione, da lì in poi è solo un aspetto quantitativo, concettualmente non ci sono difficoltà aggiuntive. Giovanni, se ho diverse applicazioni con diversi database, completamente, come devo scrivere, Compose, andiamo. non possiamo scriverlo adesso ovviamente, ce la dovrò fare quattro ore per parlare di come fare un Compose dedicato a questo aspetto. Posso invitarti insomma intanto se vuoi se ti serve se ti sta tutto a rivedere magari quanto abbiamo visto insieme oggi e poi ovviamente il webinar come dire vuole dare una minima mappa le tracce su cosa si può fare quali sono i passi principali per ottenere quello che si vuole fare poi in un'ora non possiamo fare grandi cose però spero di avervi dato le vasi per cominciare a trovare delle soluzioni al tipo di problematiche che mi sottopone per esempio Giovanni purtroppo deve scappare Giovanni e quindi niente ho parlato a vuoto va bene ok va bene no vuoto no perché comunque si reggerà la registrazione non troverà un grande aiuto ma perlomeno come dire qualche informazione ottimo grazie siamo in conclusione io nel frattempo ho condiviso tutti i link che dovevo fare vi condivido un ultimissimo link che è quello del nostro gruppo facebook per informatici e developer seguitici come sempre su tutti i nostri canali social ci vediamo al prossimo webinar giovedì prossimo grazie mille a tutti e buona serata ciao grazie a tutti ciao grazie a tutti alla prossima buona serata a tutti ciao ciao